Ha ricevuto Izzo che non riesce a chiudere per il traversone per l'arbitro è calcio d'angolo il segnaline invece aveva detto che la rimessa era dal fondo comunque è il calcio d'angolo battuto da Izzo è il nono e neanche questa volta Saviano raggiunge la palla con Cazzani Saviano Pezzoli Rete di Pezzoli al quarantatresimo del secondo tempo il Benevento riesce a sbloccare il risultato con Pezzoli scene di entusiasmo pazzesche sul terreno di gioco mentre Donetti continua a protestare con il signor Galbiati per la posizione irregolare di Pezzoli noi non possiamo assolutamente dire niente in proposito in quanto eravamo concentrati sul tiro di Pezzoli